ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube allora ho preparato queste farine per fare un filone semplice semplice questa è semola rimacinata della molisana macinata a pietra poi userò questa di tipo 2 del molino marino lo stesso macinata a pietra bene quindi ho preparato poi il sale e l'acqua 380 grammi di acqua pesatela sempre l'acqua perché come vedete questi misurini non sono proprio così fedeli quindi l'acqua la pesiamo la pesiamo sempre il sale e poi vedremo metteremo poi il idomate dopo l'autolisi quindi vado a versare dentro la ciotola della planetaria e vado a mettere l'acqua per mettere le farine in autolisi vedete fino a che non vedo più farina metto ancora acqua e ho girato così grossolanamente l'acqua l'ha assorbita quasi tutta ne è rimasta pochissima da mettere dopo adesso copro copro e lascio almeno 30 minuti dopodiché vado passato il tempo vado a versare a mettere scusate la pasta madre a pezzettini 100 grammi di pasta madre solida che avevo rinfrescato e lasciato lasciato lievitare per più di quattro ore metto un po di acqua di quella che è rimasta e faccio partire la planetaria continuo a mettere piano piano la poca acqua è rimasta ne metto pochissima per volta alla fine anche goccia goccia e mi regolo mi regolo perché poi alla fine non messi cioè io 3 80 ci sono andata precisa però se vedete che c'è bisogno di più acqua potete anche metterla un pochino di più questa è un'idratazione intorno credo che sia al 77 per cento un po superiore del 75 se volete aumentare l'idratazione potete farla farlo magari portandola all 80 per cento bene io qui naturalmente accorciati i tempi però ho fatto girare fino a che l'impasto non è incordato o quasi incordato quindi una diecina di minuti e poi l'ho versato dentro questa ciotola che ho oliato e qui vado a fare due giri di pieghe in ciotola con una pausa di 30 minuti copro lascio 30 minuti e faccio un altro giro di pieghe ok mi scuso se ancora non ho rimesso l'intro iniziale perché ho avuto problemi con il computer mi sono spariti dei programmi però adesso risistemo tutto quindi andrò a rifare l'intro dove mi vedete per adesso proseguendo così allora questo è l'altro giro di pieghe avete visto l'impasto è molto bello bello elastico ora lo copro e lo lascio lievitare eccoci qua allora come avete letto nella descrizione io l'ho tirato fuori questa mattina e l'ho lasciato quasi due ore a temperatura ambiente perché lavorarlo freddo non è il massimo e voglio fare questo pane per l'ora di pranzo quindi adesso procedo subito scusate l'inquadratura ecco qua quindi adesso farò altri due giri di pieghe se volete anche tre ma due credo che bastino perché vedo che lievitato molto bene quindi proseguo per le classiche pieghe a tre che voi già conoscete in questo modo cerco di chiudere bene metto un po di simola sulle mani vedete ci sono le bolle quindi è molto ben lievitato arrotondo un pochino copro e lascio inquadrato bene e lascio lascio lievitare lascio coperto più che lievitare lo lascio rilassare una trentina di minuti ok questo è l'altro giro di pieghe e purtroppo quando ho montato questo video mi sono accorta che avevo saltato la registrazione della formatura questo mi dispiace molto però ho voluto fare lo stesso il video di questo filone ma vi metto in alto un link per la formatura del filone anzi ve ne metto due così scegliete quale volete e questo è il filone vedete dopo l'incirca tre ore l'ho tenuto al caldo e lievitato bene potevo anche infornare un po un po prima quindi ho acceso il forno l'ho portato a temperatura 250 gradi e adesso lo giro lo giro per prepararlo per infornarlo questa è la mia solida procedura su carta forno sulla pala che poi farò scivolare nella teglia che nel forno bella calda o se volete sulla pietra come siete di solito abituate a fare allora ci metto un po di un po di semola sopra e vediamo che cosa possiamo fare prima di fare il taglio lungo magari un disegnino proviamo questa formina con i cuori vediamo che cosa esce fuori e premo un pochino poi magari continuo a ritagliare con la lametta un pochino per andare precisa così ne farò soltanto due giusto soltanto per cambiare un pochino ok mi dispiace molto che ho saltato questo passaggio però comunque la formatura sul canale se andate su qualsiasi pane potete vederla allora ecco qua come vedete ho infornato io lo lascio a 20 minuti a 250 poi abbasso prima a 230 poi a 220 piano piano però se a voi non piace il pane scuro e ben cotto come piace a noi abbassate subito a 220 poi a 200 abbassate subito voglio dire vi regolate insomma con la cottura se abbassate prima invece di 20 minuti a 15 vi viene un pochino più chiaro e naturalmente allungate la cottura il tempo di cottura ok sembra sembra che sia venuto abbastanza bene oddio mio i cuoricini insomma potevano venire meglio non importa la prossima volta li faremo meglio e adesso lo metto appoggiato in piedi o su una gratella io l'ho messo qui su questa cesta a far farlo raffreddare un pochino prima di tagliarlo bene sentite come come scrocchia bello scrocchierello e dentro deve essere abbastanza morbido io direi che bello molto bello no che ne dite tagliamo ancora qualche fetta sentite come come croccante a noi piace tantissimo così bello bello sì direi che va bene va bene così bene amici vi ringrazio della visione vi metto il link al punto giusto per la formatura scusatemi ancora vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto e da condividerlo e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ciao a tutti e ci vediamo prossimamente ciao ciao ciao